Ecco dov'è Beatrice, parla finalmente lo staff della Luzzi. Lo abbiamo raccontato, la V più amata di questa edizione del Grande Fratello è uscita per motivi personali All'improvviso e inaspettatamente lo scorso mercoledì, il Grande Fratello ha annunciato il temporaneo abbandono dell'attrice dalla casa Ed ecco che arrivano gli aggiornamenti del team dell'attrice di Vivere, Beatrice costretta da motivi personali, ha deciso di lasciare solo momentaneamente la casa del Grande Fratello Però ragazzi, niente paura e state tutti tranquilli E ancora, noi vi terremo aggiornati, grazie del supporto. E la promessa è stata mantenuta Poi è arrivata la tegola di Letizia Petris che ha lasciato di stucco tutti, fani concorrenti del Grande Fratello La ragazza agli altri ha detto, ho parlato con loro in confessionale Mi hanno detto di pensare come ci fosse una persona in meno, anche per la coreografia Dobbiamo fare tutto pensando che lei non c'è Ecco dov'è Beatrice, parla finalmente lo staff della Luzzi Poi Letizia dice, anche il balletto va rifatto perché lei non ci sarà Poi finalmente lo staff di Beatrice e Luzzi a mettere qualche puntino sulla i Nelle scorse ore infatti, un rappresentante del team di Beatrice e Luzzi ha partecipato a una conversazione su Twitter con i fan, cercando di tranquillizzare tutti Al momento sembra che Beatrice sia ospitata in un hotel e potrebbe presto fare ritorno nella casa di Cinecittà Dov'è adesso? Per il momento si trova chiusa in un albergo e ovviamente non può vedere né sentire nessuno Però noi siamo altamente fiduciosi che possa rientrare al Grande Fratello, ma non sappiamo quando, dice il membro dello staff dell'attrice di Vivere Chiaramente il pubblico auspica che il suo ritorno avvenga al più presto, poiché quest'anno, più che mai, una singola concorrente si carica sulle spalle almeno la metà dell'importanza dell'intera edizione e la diretta senza di lei perde il suo fascino In tanti in questi giorni di assenza della Luzzi, fanno fatica a ricordare una partecipante così amata, in grado di unire praticamente tutti, ma davvero tutti